Non corrisponde al vero che nella Regione Lazio venga impedito l'uso del plasma di convalescente. La Regione Lazio già il mese di aprile ha autorizzato la raccolta, la conservazione e l'eventuale utilizzo di plasma di convalescente. Inoltre i centri clinici della Regione Lazio hanno potuto aderire al programma nazionale di valutazione randomizzata e controllata dell'impiego del plasma di convalescente che è coordinato dall'Istituto Superiore Sanità e dall'AIFA. Questo studio sarà l'unico che permetterà di dare una risposta a se, come e quando questo trattamento è efficace. Senza questi risultati ogni trattamento può essere considerato, ma i trattamenti che non escono da una prova di valutazione possono non solo essere pericolosi, ma talvolta essere controproducenti per i pazienti e al limite della stregoneria.